Allora, oggi per la prima volta giocherò a Roblox Allora, già siamo partiti male A parte che abbiamo tutti e due i capelli rossi Sì, perché è il personaggio base E non si può cambiare Sì, si può cambiare Aspetta che adesso rimango in questo reginto Siamo partiti proprio bene No, ma io non so proprio Cioè, i tasti, non so come si va avanti Come si salta Allora, dove c'è la freccia? Dove andiamo adesso? Di lato, c'è diritti Allora, dove c'è la freccia si salta Poi c'è tipo questo coso Che è fare da solo e cammino Quindi, dobbiamo fare dei percorsi adesso? Sì Sei rimasta indietro? No, sono qua, io la direi Ok Cosa devo fare adesso? Adesso? Devi fare il percorso Allora, questo è facile Dobbiamo saltare? Quasi Ok Poi questo è il checkpoint Ok Vabbè, dai, per adesso ce la sto facendo No, non ce l'ho fatto Allora, c'è questa cosa rossa Quest'eserisce rosse E tu non puoi stare sopra Devi saltare Non puoi passarci Devi saltare Ma come si cambia la prospettiva? Così è facile Devi cliccare sullo schermo e girare Ok Vedremo le variate cadute di Nati Sono appena caduta comunque Io non ho dovuto Allora, ho perso Jenny Allora, non so qua Ma non è possibile Io sto ferma qua Ti stavo facendo vedere come Ecco qua È già la terza volta che Caldo? Sì Quanta Quanta volta? Quinta? Vediamo Ma ce l'avevo fatta No, guarda Ti sto facendo come devi fare Facendo vedere come devi fare Ho capito No, non penso proprio Basta No, io mi arrendo Allora, già qua Ma sono caduta Se te la rendi qua Allora avanti Non puoi andare Ma Ma hai visto come sono caduta? Io questo qua L'avevo già fatto una volta Ecco Tanto tempo fa Aspetta Ce l'ho fatta Ok Ce l'ho fatta L'avevo già fatto Sì, ma nel frattempo ho perso Jenny No Sono dietro di te Io non so girare la prospettiva Ma chi è quello? Non lo so Ma c'è uno Sì perché Non è che c'è uno Ma ci sono altri personaggi? Ma non me ne sono accorta Ma perché c'è la classifica aperta? Vabbè poi te lo spiego dopo Non lo so Praticamente questa qua Questa cosa è un percorso nuovo? Sì No, io non ce la farò mai In pratica Devi seguire questa cosa No, io non ce la farò mai In effetti Secondo me non ce la farò Infatti non ce la faccio Ecco qua Sono caduta Ma io lo sapevo Prima caduta Da, andiamo avanti Seconda caduta Vediamo Sì, però non starmi così vicino Ma adesso non succede niente Possiamo stare pure attaccate Non è vero perché mi intralci il cammino Tu così No Sì invece Casomai intralcio la visuale Eh appunto Io già non so cambiare neanche la visuale Quindi figurati Allora questo Ce l'ho quasi fatta Ok Questo l'hai superato proprio così Perfetto Adesso dove andiamo Ma si è caduta? Sì Sono caduta anch'io No, niente Sì ma non devi andare là Devi saltare sul cosa rossa Ok Sì sono saltata Eh e devi fare la stessa cosa dopo Mokado No No Vediamo Ce l'ho fatta? Ce l'ho fatta, sì? Sì Sì ce l'ho fatta Questo Secondo me è facile Cosa dobbiamo fare adesso? Non devi prendere questi così Bianchi Intanto io ecco qua Ovviamente no Vediamo se ce la faccio No No Cioè io l'ho fatta anche al contrario In che senso? Io volevo vedere che Ma perché c'è questo qui? E mica lo puoi cacciare Ci sono Mattia Che dobbiamo fare qui? Aspetta Dove sono io? Non lo so Ho perso Jenny Ho perso Ah no sono qua Ecco qua Praticamente Qua Ma quando me lo dici Eh te lo stavo per dire Ho capito Non devi toccare questa cosa Non devi toccare questa cosa Lilla Sì ma Mi sono schianzata forse 3-4 volte nel frattempo Hai visto? Sì ma se io te lo dico No Non fa per me questo gioco È troppo difficile Veramente facile Devi solo prendere un po' di pratica Ce l'ho fatta? Ce l'ho fatta? Quasi Dai però No Poi ci sono io Che ho già preso il checkpoint Ma dove sei tu? Sono andata a prendere il checkpoint E sono andata indietro E perché? Per vedere quello che fai Infatti anzio io Mi schianto Tipo dieci volte Ma io vorrei sapere Chi è quello lì Non lo so Qualcuno che sta giocando Nella stessa mappa Quindi possono venire altre persone Insieme a noi Sì vedi Ci sono tutte Eh da Ce l'avevo quasi fatta Questa che vedi qua Guarda che sta davanti Ma veramente sei tu con questa rituale Non c'entra niente Non è vero Anche tu mi stai davanti In questo momento Ok Ce l'abbiamo fatta Mamma mia Finalmente Cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo saltare? Sì devi solo saltare Non devi fare niente Wow ce la sto facendo Non dici che Ce l'ho fatta Al primo colpo Bravista Vediamo Che dovevo fare qui? Vabbè Non dovete fare quelle cose celeste Scure Ce l'ho fatta Scure Invece cuore Devi toccare il centro Ok Ce la sto facendo? Cadrò? Sì Eh bravo Sono caduta Era scontato Era troppo scontato Che stai facendo? Non lo so Non so Fare le visuali Comunque ti ho detto Non andare al centro E si può andare al centro No Guarda che mi stai davanti Ma non significa niente Eh vabbè Che dobbiamo fare adesso? Devi saltare su questi quadrati Cubi Cosa sono cubi? Sì Ce l'ho fatta? Quasi Sì E ora qua arriva il barro Voglio vederti a questo No io questo non ce la faccio No no Guardi Rimariamo qui Ce l'ho fatta Come un treno Ecco qui E vabbè Rimariamo a fermi qua Nati Sì Quante volte hai arrivato già? Eh buh Cinque volte Non lo so Ecco qui Ci ho caduta Che è caricato Non lo so Cosa devo fare adesso? Fermo Chiudo io Jenny Fermo Ok Ti ho anche chiuso la classifica Ah quindi Io sono stata con Tutto questo tempo Con la classifica Ecco qui Sono caduta Ma io lo sapevo Cioè Quando fosse Dobbiamo arrivare Non lo so Anche cento volte Perché io non ci riuscirò Ci riuscirò? No Ci proverei lo stesso? Sì No guarda Non so fare neanche la visuale Figurati se Adesso andare avanti Eh vabbè Tu a questo livello No no Proprio non è d'accordo L'hai scelto tu Cosa? Ma non puoi andare avanti E mi lasci qua dietro? Sì potrei Però mi stufo Ah puoi? Sì Ok lasciami qua Solo che sì Io poi vado avanti Non posso più tornare indietro No Sono caduta di nuovo Basta Ma come si fa? È facile Non devi toccare Ma non riesco Non devi toccare Questi cosi Ho capito Non riesco Bene Basta Ci provo io No no Lasciala stare Basta Grazie a tu Grazie.